Buonasera, eccoci di nuovo qua. Bene, abbiamo qui il ragù bianco, abbiamo messo a bollire l'acqua, ho fatto le vattardelle, tutte le qui, appena è bollentata, giù nel civetto, ok? Abbiamo imparato questo formaggio, il nostro varigiano grattugiato, la piegheremo, salteremo in padella e siamo pronti. Eccoci, bene, a posto la pasta, la possiamo colare, sempre il nostro appiccino, metto il svento, hop là! No, 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 no. No, no, no! bene ci siamo togliamo il fuoco cerchiamo il formaggio raccomando spegnete il fuoco quando mettete il formaggio invece deve venire bello per il mostro del fuoco bene la nostra pasta è pronta e ci resta in piattarla abbiamo preso il nostro bel piattino ecco le nostre pappardelle sono pronte le pappardelle a ragù bianco grazie e buona serata ciao Gio a presto alla prossima ricetta grazie di tutto